Oggi prepariamo insieme i panini al latte, ricetta facile e veloce. Versate in una ciotola la farina, il lievito di birra, lo zucchero e iniziate a mescolare il tutto aggiungendo latte tiepido poco alla volta. Aggiungete anche il sale e continuate a lavorare. Unite adesso l'olio extravergine di oliva, sempre poco alla volta. Impastate bene il tutto fino a farlo assorbire. Aggiunto l'olio avrete ottenuto un impasto grezzo. Coprite con pellicola trasparente e lasciate riposare per 20 minuti. Trasferite l'impasto ottenuto sul piano di lavoro infarinato. Fate delle pieghe di rinforzo e lavorate energicamente. Naturalmente potete impastare il tutto in planetaria. Impastate ancora fino a quando otterrete un impasto liscio ed omogeneo. Trasferite l'impasto in una ciotola e lasciate lievitare fino al raddoppio. I tempi di lievitazione dipenderanno dalla temperatura ambiente in casa vostra. Quando l'impasto sarà lievitato trasferitelo sul piano di lavoro e dividetelo in panetti. Io ho realizzato 12 panetti da 70 grammi. Naturalmente potete realizzare dei panini più grandi o dei panini più piccoli. Quindi stendete ogni panetto, arrotolatelo su se stesso e formate i panini. Procedete nello stesso modo per tutti i panetti. Trasferite i panini su una teglia ricoperta di carta forno. Coprite con pellicola trasparente e lasciate lievitare fino al raddoppio. Quando i panini risulteranno ben lievitati, spennellate con tuorlo e latte e quindi infornate a 190-200 gradi forno statico per 15-20 minuti. Ed ecco i nostri panini appena sfornati. Leggerissimi e sofficissimi. Perfetti da farcire con ingredienti dolci e salati. Da preparare per buffet e compleanni. Grazie per aver seguito anche questa videoricetta. Alla prossima! Ciao!